ok siamo in diretta è partito siamo in diretta è partito ok allora allora niente siamo in diretta facebook proviamo a fare qualcosa che non ho mai visto fare da nessuno cioè tirare tre frecce tirare tre frecce per fare 30 tirare tre frecce per fare 30 niente ora proviamo e vediamo anche con un po di fortuna se riesco a farcela dai un po di fortuna direi che la missione è compiuta sono 3x da compound adesso comunque andiamo a controllare da vicino mi sembrano proprio tre belle frecce a presto a presto Ok, ottimo, 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 però secondo me non basta perché 30 con un po' di fortuna si può fare, chiunque può fare 30, però secondo me bisogna provare a farlo di nuovo, di nuovo 30, vediamo se riesco di nuovo a fare un altro ventaglia, vediamo, prendiamoci solo qualche secondo per cambiare la visuale, mettiamo una visuale nuova e aggeriamo il numeratore e poi partiamo, secondo 30 consecutivo e ci proviamo iniziamo un po' di fortuna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direi 6x consecutive, diciamo che è definitiva la cosa.